bello a tutti ragazzi siamo in questo nuovo video io sono Dome DS e questo è Sam io sono il cameraman io sono il cameraman ti riesci e gira la videocamera ma cambia appunto stazione allora oggi siamo qui ma cosa fai? vuoi vedere? allora vediamo Dome che sbaglia subito dal primo colpo è un nabbo, è un bot, è un bot, è un bot no, mi metti tutto, aspetta l'altro e one is bot vuoi che ti metto per non schiacciare L dopo che è modificato? no, perché ce ne sono di fuoco guarda che bot raga voglio vedere nei commenti Dome e bot grazie piove piove o dopo blondiamo mentre facciamo battaglia di merca papi ma quanto restiamo ancora? no, 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 non è molto bello si sente il busto in bello e poi si sente un bot così sto guardando un video più bello no, no, vabbè non riuscivi a editare però vai tu il cameraman adesso vabbè eccomi cosa vuoi usare? il pompa del mondo? ok vabbè raga per questo video è tutto ci sentiamo dopo quando facciamo la battaglia di nerf bella grazie